Sesta stazione della Via Lucis. Il risorto si mostra vivo ai discepoli. Ti adoriamo Cristo risorto e ti benediciamo perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre essi parlavano di queste cose Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse pace a voi. Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma ma egli disse perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore. Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò a loro mani e i piedi. Ma perché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti? Disse avete qui qualche cosa da mangiare? Mi offrirono una porzione di pesce allo stito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Il risorto appare a tutti i discepoli. Il risorto appare alla comunità. Perché la comunità è il luogo privilegiato dell'incontro con il risorto. Ed è la comunità che vive in una quotidianità. Non nel Tempio di Gerusalemme ma in un luogo dove tutti accedevano in un luogo che potremmo dire usuale, quotidiano. Dio libera le nostre paure, ci libera da ogni dubbio attraverso un cammino che è fatto di familiarità. Lui si adatta agli stati d'animo dei suoi discepoli. Innanzitutto si fa incontro con la pace, libera le paure perché loro credono di essere davanti a un fantasma e quindi prima si fa vedere, dona la pace, poi invita a toccarlo e dice letteralmente, dice sì toccatemi ma letteralmente quel verbo dice pizzicatemi. Ecco quindi proprio un toccare veramente con gli effetti del tocco. Il Dio rivelato in Gesù Cristo, il Cristo risorto non è un pensiero, il corpo di Cristo non è qualcosa di astratto. Nel Cenacolo Gesù risorto si presenta letteralmente carne e ossa e lo dice lui stesso, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Ecco perché gli apostoli passano dal muro della paura al velo della gioia ed è bello questo passaggio. Tant'è vero che ancora non credono perché è troppo bello per essere vero. Allora il risorto passa dal ruolo di maestro che dice un fantasma non ha né ossa né carne come vedete che io ho, quindi da mostrare la sua umanità, a quello ancora più familiare, più quotidiano avete qualcosa da mangiare. Ecco la fede nella risurrezione non è una narrazione ma è un camminare insieme, è un condividere insieme, è un mangiare insieme, fare famiglia. I discepoli di oggi sono chiamati a narrare le opere mirabili che il risorto compie nel nostro tempo perché le nostre esigenze sono come quelle di una famiglia e quindi la nostra vita di relazione è come questo vangelo ulteriore che il risorto scrive insieme a noi e la prova attesa dell'esistenza di Dio come padre e della presenza del risorto passa attraverso proprio la testimonianza di credenti credibili che fanno passare la carne del risorto attraverso la loro vita e attraverso la loro stessa carne. Ecco quindi la risurrezione di Cristo prende vita nella nostra vita. È risorto, esulta il cuore, è risorto, più non muore Santa Vergine il tuo figlio. Preghiamo. Dio della condiscendenza, dall'incarnazione alla risurrezione ti sei sempre donato, sempre adattato, hai parlato sempre il nostro linguaggio, il linguaggio del corpo, il linguaggio della vita. Ci hai dato sempre segni e prove della tua vita, della tua grande luce e della tua manifestazione gloriosa nell'umanità. Ci hai liberati sempre Signore da dubbi e da paure, ci hai guidati per mano al traguardo della fiducia in te e ora Signore rassicurati su di te che sei la nostra speranza. Siamo incaricati da te, nostra guida, a santificare il tuo nome tra tutte le genti. Ecco rendici segni visibili, concreti, carnali della tua Pasqua. Facci testimoni di te, risorto nel nostro tempo. Facci veramente vita della tua vita in questo in questo nostro mondo che ha tanto bisogno di luce e di gioia. Amen. Regina del cielo, rallegrati, alleluia, perché il figlio tuo è veramente risorto. Alleluia. Gesù è vivo, alleluia, 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 alleluia. Gesù è risorto, alleluia, alleluia, Gesù è vivo, alleluia.